Ehi la ciurma! Io sono MazzeTest, ben ritrovati qui di nuovo su Magic 2015 Come avevo già anticipato, come avevo già detto, come dirò, come farò... faccio l'espansione Quindi, tanto mi è stato detto che non ha tante battaglie, quindi la proviamo, ecco, diciamo Garruk's Revenge, che è il DLC, sei Garruk, lingua selvaggia, il più grande cacciatore del multiverso Usa la tua potente magia per schiacciare coloro che cercano di porsi tra te e la tua preda La prima volta che completi l'espansione userai il mazzo di Garruk, ma potrai affrontarla di nuovo e missioni con qualsiasi mazzo tu desideri Ok, quindi per ora dovremo usare il mazzo di Garruk Qua c'è quella esplorativa E4, come ci è stato detto La caccia abbia inizio E ci fiandiamo subito, io spero di essere ancora abbastanza ingranato come abilità L'ho messo in italiano, come potete vedere il rimbombo nella tua testa aumenta Voltando ti vedi una massa di spiriti che si avvicinano contorcendo Si parla con una voce collettiva Garruk, maledetto dal velo, devi tornare con noi su Innistrad Dall'angelo Avacin, vuole offrirti il suo aiuto Senti di rizzarsi i peli sulla nucca Per un istante la nebbia si ridirada e distingui una forma umanoide Sulla nucca uno non dovrebbe avere dei capelli Ah, ma lui effettivamente è Garruk Quindi lui può E ha dei peli, non dei capelli Allora, io non ho nessuna idea di che tipo di Non me lo ricordo più che tipo di mazzo ha qua Ho dei cancelli, un cinghiale No, io cambierei Pesca una nuova mano Allora Un Garruk's Companion Ci va di sicuro già meglio Sì, dai Mantieni una mano Altrimenti dovremmo Perdere una carta Inizia lui E un attimo Questa è giocata una carta a terra Allora Uh, qua c'è venuto il collo Stra Mega OP Che è 5-5 Allora io giocherei una foresta E poi passerei il turno Perché non abbiamo più un Kaiser di nulla E infatti, fine Il collezionista Kento L'artificio di Spiriti Combattimento Fine Anche lui non ha Usato un Kaiser di nulla Per fortuna Allora io giocherei una palude Giusto per essersi Q Stupido E vabbè, uso questa L'altro era due verdi Iniziava malissimo, ragazzi Io prenderei una verde Per forza Oh, questa, dai Una terra da mettere sul campo Tappata Sì Adesso possiamo anche giocare questo No Questo 5 3 e 2 Ho iniziato con un fail Un po' di dannini Ecco L'altro non sta ancora giocando un Kaiser Uh, fanciullo di spine Creatura Sacrifica Il fanciullo di spine Una creatura bersaglia Prende più 1 Più 1 Fino alla fine del turno Sì, non è che sia particolarmente forte Insomma Se ce lo blocca Muore Quindi Non gli converrà Suppongo Allora, giochiamo La foresta Qualche cos'è che abbiamo pescato Consegni sulle regole Rapidità Le creature con rapidità Ignorano la debolezza Da evocazione Sì, ok Quelli con haste Tritura scorie Un 3-3 Uh, questo mi piace 1-1-1 Quasi quasi giocherei Ma lui mi consiglia questo Qua è 1-1-1 Sì, posso giocare tutti e due Posso giocare questo E posso giocare anche Tritura scorie Vai Sì, ho capito E io attaccherei Con tutte e due A sto giro Uno E uno l'altro Tanto poi abbiamo anche Roba per difenderci Quindi Gli infliggiamo 6 danni E Dovremmo avere abbastanza Essere abbastanza parati Anzi Lui si sacrifica Perfetto Per salvare Risparmiare Gli 3 danni E E niente Perde l'unica cosa che aveva Ma devo dire Meglio per noi Sta andando abbastanza bene Ma mi hanno detto Che non è troppo difficile Anche perché Il mazzo di Garou Che è abbastanza OP E l'abbiamo visto Quando dovevamo sconfiggerlo Spirato il fruttetto Non può essere bloccato Tranne che da creature Convolare o raggiungere Ok Quindi potrebbe farci Dei danni a gratis Questo Ma speriamo di Tirarlo giù Prima che Diventi un problema Cosa che ci è saltato fuori Un Forza bruciante Istantaneo Una prende Più due Più due E un'altra Prende Meno due Meno due Ma io quasi Quasi la userei Per tirare giù Quella Allora Più due Più due La metto Questo E poi La creatura Che prende Meno due Meno due È quella Così Quella è seccata E questa diventa Un 5-5 E posso combattere Con questa Roba qua E gli faccio Undici danni E Ci avviciniamo A Grandi passi Diciamo Alla Al termine Della Battaglia Devo dire Che il fatto Di aver giocato Nel frattempo Ad altri giochi Di carte Mi ha Aperto un po' La mente Nel senso Che adesso Vedo un pochettino Meglio le strategie Possibili Tiger Fantasma Entra con due Segnaline Più uno Più uno Ok E poi diventa Più debole In mano Che le facciamo Dei danni Cos'è che c'è qua Worm Di sodatombe Ma non abbiamo Abbastanza mana Abbastanza Mana Questo qua È un 5-5 Questo è un 3-3 Io andrei su quello A sto punto Questo ci fa Un pesca tre carte Ma non è che ci serve Chissà Chissà quante carte Più che altro Giochiamo qualche creatura In modo da cercare Di concludere Il tutto Lui suppongo Che ci seccherà Una di quelle Morendoci Nell'intento Infatti Però questo Non gli impedirà Di essere Eliminato Forever Perfetto Allora io direi Che possiamo Anche una busta Sbloccata Apriamola Allora Benedizione del sigillo Più 3 Più 3 Uh I like that No ma sono Blu Boh Poi comunque Vedremo poi Osservi il corpo Martoriato Del mago degli spiriti Senti su di lui Il tanfo Ma il seno di Innistrad Insieme ad altri odori Ti rendi conto Che non è venuto Solo è ovvio Ti stanno dando La caccia Questa è l'opera Della strega Ne sei certo Il sangue gocciola Dal filo Della tua lama Della tua lama Sul petto Del mago E la fame Ritorna di nuovo Che la caccia Abbia inizio Ok quindi Dobbiamo andare A seccare questo Visto che Sono bastati Solo 7 minuti Direi che possiamo Avventurarci Anche su questo Male che vada La finiamo Nel prossimo Tue tracce Di tuoi inseguitori Ti avventuri In un passaggio Paesaggio devastato Il fettore di morte Ti circonda Ma non ti impedisce In pile di ossa Sparsi lungo il cammino Finchè non raggiunge Un boschetto di alberi morti Da un tempo Immemore I cui rami Rigano il cielo scuro Tra le radici Pietrificate Un uomo In ginocchio Impone intorno Una litania Mentre dispone Meticolosamente Alcune ossa Ah e noi Lo attacchiamo Così Ah è un'eramita E noi lo picchiamo Ehm Sangue su Caputrida Può esserci comoda Però abbiamo tutte le robe Troppo forti Qua Pescano una nuova mana Perché non abbiamo mana Qua abbiamo un mana Ma niente di che Vediamo di nuovo Vai così Anche perché Se no Ci prendiamo Sempre meno carte Ok Allora Qua abbiamo Il tritura scoria Che è buono Sì non mi mostrerà più Sta roba qua Questa che anche Non è male Ma Sì Giochiamo qua No io giocherei Scusate ma Vabbè Non si può come annullare L'avevo cliccata ormai Ho provato a spostare Ma mi ha spostato E mi ha giocato la carta E vabbè Avrei giocato il verde Più che altro Non tanto adesso Siamo obbligati comunque A giocare il verde E Ah Sto inarrestabile Così ci prendiamo Un'altra mana E lo giochiamo E io di andrei Io andrei di verde Sempre Perché è quello Che ci serve di più Come mazzo Insomma Ho notato che abbiamo Più creature Che hanno bisogno Di molte verdi Che non di creature Che hanno bisogno Di nere Lui invece è tutto Di nero E effettivamente Sta giocando Con delle ossa Quindi Redoni delle palude Creature zombie Passapaludi Cosa vuol dire Passapaludi Non può essere bloccata Se ha un giocatore Che ha delle paludi Cribbio Io ho delle paludi Credo 2-2 Eh ok Continua Questa è una palude Vediamo che conti Come palude Sì O forse solo questa Meglio non giocarla Comunque quella Fintanto che abbiamo Altre possibilità Cosa posso giocare Non armonizzare Non la faccio Metto il tritura Scorie Tra l'altro Che abilità Non l'ho neanche vista Mangiacarogne Cos'è Se una carta creatura Che mangia In ogni momento In cui potresti Lanciare una stregoneria Puoi pagare il suo costo Di mangiacarogne Ed esiliarla Dal gioco Per mettere su una creatura Versaglio Non vorrei segnare Di fare il punto Da carta esiliata No non voglio Attacco No io direi di saltare Perché Se per caso No lui non attaccherà mai Però almeno mi impedisco Che mi attacchi Ah no invece attacca Posso bloccarlo O me lo conta come palude No me lo conta come palude Allora era meglio Che attaccavo Rapidità Ah se usa una carta Prende più uno Più uno Oh inizia a farsi Più tosta la storia Ma anche perché Ho poche carte Mi sono venute Delle robe un po' schifezze Cinghiale Vai col cinghiale E io direi che Attacco con questa Tra l'altro Non mi è nevasta una Per difendere Perché l'altra Non posso bloccarla E adesso O ci muore O prende danni No infatti Prende danni Buono così Buono così Adesso vediamo Cribbio Se le tappate tutte Mi fa un botto di danno Porca pupazza Questa non posso bloccarla No Salto il blocco Meglio Anche se quella Sta diventando Troppo pericolosa Lui ha tutte carte palude Allora Però non disperiamo Ho un capogranco Di Garruk E Io attaccherei con questi Perché tanto Non posso Parare niente Userò questo Per sacrificarlo Contro di quello Probabilmente Mi spiace Perché è l'unica Forte che avevo Però Mi attacco con quello Che è un 7-7 O peggio ancora Un 8-8 E infatti Adesso sarà un 8-8 No Me ne uccide una Gratis Questa Sapevo Porca pupazza E non posso neanche bloccarlo Però se no Altra ho giocato quella Quindi diventa solo Un 4-2-6 E 1-7 Mi rangono Due punti vita Ancora Ah no Non puoi attaccare Con quello È vero 6 Mi rimangono 3 punti vita Vediamo cosa Riusciamo a fare Sto giro Allora Giochiamo la palude Poi andrei Più che altro Di armonizzare Perché così Possiamo pescare Delle carte Vedere se ci esce Qualcosa di interessante Cancello Cancello Però mi toglie Però mi toglie Un 1-1 A una creatura A sua scelta Eh La situazione È abbastanza critica Attacca solo Con quello Però io ho solo Più un turno Se non chiudo Questo turno Ho perso A meno che non riesco A trovare un modo Per seccare Quella No No Non è legale Questa roba Tutte le creature Prendono Meno 1 Meno 1 Fino alla fine Del turno Per ogni palude Che controlli Vuol dire Che me le uccide Tutte No Prende anche le sue In realtà Oh no Tutte le creature Tutte morte Ok Poteva andarmi Molto peggio Molto peggio Poteva andarmi Sanguisuga putrida È l'unica E non posso neanche potenziare La crescita è inarrestabile Dammi Mana Così a caso Proprio Questo E vai Speriamo che non abbia Un kaiser di niente Ora Perché se ha qualcosa Mi frega Del tutto Non ho più nulla Lui non ha nulla Ma neanche io ho nulla Neanche per difendere Se ha un nest È volare Buonanotte Persa È chiusa Non posso bloccargli A meno che non ho un nest Che toglie 11 No infatti Eeeh Niente È andata A meno che non para Se per cosa Dovesse parare No sto scherzando Me la uccide E poi mi attacca Fine Eppure Troppo pisto Qua Con più paludia Più è forte Che danno bestia Mi fa Buon ragazzi Io vi invito A lasciare un mi piace Per questo Ritorno Di Magic 2015 Eeeh A iscrivervi Se per caso Non l'aveste ancora fatto Ci vediamo Nel prossimo episodio Dove Sconfiggeremo Definitivamente Questo mendicante Del kaiser O almeno ci speriamo Eeeh L'episodio sarà Di giovedì No di lunedì Questo qua è uscito giovedì Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti Grazie a tutti.